grazie 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 adesso adesso i chirurgi i sogni li amava dopo tutto davanti a un problema aveva bisogno di fare con la sedia ci sono vedi l'afgana venne a brutto soccorso l'ospedale soffecendo un bambino pallido la guerra non è inevitabile è soltanto una pessima amitudine invece qualunque è arrivato un'accusa diversa se è certo che ognuno di noi prima o poi avrà bisogno di un medico allora ognuno di noi è potenzialmente un cliente di un mercato quello della salute enorme grazie 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 grazie